Queste manifestazioni fanno solo bene, più ci si avvicina a questo disturbo, meno si ha paura. Più giornate come quella promossa dall'Istituto Comprensivo Michele Greco di Manduri e patrocinato dall'Amministrazione Comunale Olimpiadi in Blu allo Stadio Dimitri, della città dove lo sport ha unito centinaia di bambini, genitori e cittadini per promuovere la consapevolezza sull'autismo. È bella la giornata della consapevolezza, poi è giusto continuare con questa consapevolezza. I ragazzi vanno spronati e la conoscenza in questo mondo della disabilità deve sempre essere aggiornata. E quando si parla di disabilità la prima cosa da fare, sostengono alcuni genitori, è cambiare un termine troppo abusato, forse ingiusto, che a loro proprio non piace. Secondo me è anche un po' brutta l'inclusione come parola perché dovrebbe essere una cosa naturale, qualcosa di diverso. Invece no, dovrebbe coesistere, dovrebbe la coabitazione con tante persone diverse. Bisogna condividere, non includere. E lo sport in questo aiuta. Consente di stare insieme, di convivere con gli altri, condividere emozioni, attività, vittorie e anche sconfitte. E condivisione dunque il termine più appropriato, ma anche solidarietà. La scuola L'Istituto Michele Greco sta raccogliendo i fondi da donare alla nostra associazione, che si occupa di bambini con disturbi del neurosviluppo e di progetti in educazione in natura. Perché la nostra associazione non si occupa esclusivamente dei bambini con disturbi del neurosviluppo, ma tutti i bambini.